Pesaro diventa anche capitale della cultura artigiana Scuola Anna Frank, comune obbligato ad accelerare la demolizione Sanità, ora Pesaro ha il mammografo che attendeva da sei anni Elezioni a Fano, Lucarelli presenta la sua squadra per le primarie Ressurrezione, VL, battuta la capolista Brescia Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Oggi è lunedì 4 marzo e apriamo questa edizione parlando di come Pesaro, capitale della cultura Apre la strada ad altri eventi di livello nazionale sul nostro territorio È il caso di Confartigianato che organizzerà proprio a Pesaro la prossima festa nazionale della cultura artigiana Essere capitale della cultura crea un effetto domino con ripercussioni anche sul mondo lavorativo associativo Intelligenza artigiana, valore per l'Italia sarà infatti il tema della terza giornata della cultura artigiana Promossa da Confartigianato Imprese che si terrà martedì 19 marzo nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano Un evento di carattere nazionale che coinvolgerà tutto il sistema associativo con momento centrale proprio al teatro Rossini Il 19 marzo era la festa religiosa a San Giuseppe Artigiano ma noi ormai da tre anni andiamo oltre questa connotazione solo di festa religiosa Parliamo infatti di cultura artigiana quindi era l'occasione proprio in occasione dell'anno della cultura Della città della cultura appunto Pesaro quindi era l'occasione sicuramente per portare questo evento anche in questa città È un evento a livello nazionale quindi ci sono i vertici della Confartigianato nazionale in cui vogliamo tentare di parlare con degli ospiti veramente autorevoli Dal punto di vista proprio sia della parte scientifica per quanto riguarda tutto quello che è lo sviluppo del mondo imprenditoriale A partire dall'intelligenza artificiale ma non solo i temi dell'intelligenza artificiale Vogliamo trattare anche come impatta l'intelligenza artificiale sul mondo artigiano Noi sappiamo che abbiamo delle imprese che si sono evolute in questi anni in maniera eccezionale Ma dobbiamo fare in modo che non siano travolte da un evento che potrebbe non essere governato Ci sarà in collegamento Fagin dalla California che è come sapete già stato qui a Pesaro E' il primo che ha studiato anche a fondo quelle che potevano essere le implicazioni scientifiche Dello strumento quantistico del computer proprio sui metodi di ragionamento anche umani delle persone Quindi ci sarà in collegamento Fagin, ci sarà poi un fisico musicista che è appunto Vincenzo Schettini Che è un grande comunicatore anche per i giovani Quindi è un evento che servirà per fare il punto un po' della situazione della nostra imprenditoria Soprattutto della piccola imprenditoria ma servirà anche per capire dove si deve andare per il futuro Noi preferiamo parlare di intelligenza artigiana che comunque compensa ed è complementare all'intelligenza artificiale Sono sicuramente delle risorse che si possono coniugare E sicuramente l'intelligenza artigiana è quella che ci fa andare avanti tutti i giorni Produrre nuove idee che possiamo poi sviluppare anche con l'intelligenza artigiana Faginato è stata vicina da subito al progetto della Capitale Italiana Cultura Credendo nel progetto, condividendo dei percorsi, coinvolgendo la stessa amministrazione Anche nei ragionamenti di internazionalizzazione che sta portando avanti In particolar modo raccogliendo quello che è stato un input che abbiamo dato alle organizzazioni Alle associazioni, ai livelli produttivi così come agli ordini professionali Di approfittare di questo 2024, una vetrina importante per tutto il territorio Per tenere e attrarre anche eventi nazionali delle proprie organizzazioni del territorio Quindi niente di meglio il 19 marzo, giornata dedicata a San Giuseppe e all'artigianalità Vissuta in questo caso però con un occhio molto attento al contemporaneo e al futuro A partire dal titolo dell'intelligenza artigiana Che ovviamente vuole dialogare con le sfide dell'intelligenza artificiale Non come paura ma come elemento di potenzialità Di un lavoro che viene fatto sulla base della qualità del sapere artigiano In una provincia come la nostra in cui è altissima, oltre al 90% la parte di produzione Che viene dal mondo artigiano, in una regione che è fortemente artigiana E quindi un focus importante che vivrà in tutta la giornata del Teatro Rossini Con grandi ospiti che ci permetteranno di ragionare, dialogare e proiettare in avanti queste sfide Quindi un grazie alla Confartigianato perché è un contributo importante Di incontro al programma della Capitale 24 Ed ora ci occupiamo di edilizia scolastica del Comune di Pesaro Che deve accelerare uno dei suoi tanti cantieri Per non rischiare di perdere i finanziamenti del PNRR Parliamo allora della scuola primaria Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce Che andrà demolita e ricostruita attraverso un appalto da 3.700.000 euro Procedura che è stata rallentata da Invitalia Agenzia nazionale alla quale il Comune si era affidato Davanti ad una lievitazione di costi paventata dall'impresa scelta Il Comune ha deciso di sganciarsi da Invitalia e individuare altri imprenditori in autonomia Ora però c'è la necessità di avviare il cantiere entro il 31 marzo Per non perdere i finanziamenti statali L'assessorato alle opere pubbliche ha già fissato quindi una nuova gara d'appalto Per questo venerdì 8 marzo Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni Un'altra scuola infatti della città che attende la demolizione È la Dante Alighieri di Soria Che già da due anni vede i suoi studenti trasferiti negli spazi di Pesaro Studi Il video inviatoci da un nostro telespettatore ci segnala come in attesa della partenza del quartiere La scuola di via Gattoni sia alla mercè di vandalismi Come mostra anche questo cartello recentemente divelto Episodio che segue un incendio doloso avvenuto circa un anno fa Un'altra segnalazione riguarda invece il sottopasso pedonale di via Marconi Che a pochi giorni dall'inaugurazione dell'auditorium Scavolini è già stato imbrattato da graffiti non propriamente artistici Come sempre vi ricordiamo il nostro numero whatsapp per le segnalazioni 370-366-7210 E torniamo all'auditorium Scavolini che 24 ore dopo la sua inaugurazione Ha anche ospitato la cerimonia per il conferimento della cittadinanza benemerita Al campione di motociclismo Francesco Pecco Bagnaia Da quasi 10 anni residente a Pesaro Ma una nuvola rossa avvolge il mondo E' quella di Pecco Bagnaia Nuvola rossa c'è E' campione del mondo con la Ducati E' campione del mondo con la Ducati E' un onore, un privilegio E sono molto contento Alla fine vivo qua da ormai 10 anni Ritengo che appunto questa sia la mia casa quando torno da ogni Gran Premio E si sta bene Francesco Pecco Bagnaia è cittadino benemerito di Pesaro Il comune ha conferito il riconoscimento altre volte campione del mondo di motociclismo Fra Moto2 e MotoGP Da 10 anni adottato da Pesaro così come dalla vicina Tavuglia Folla e applausi nell'intervista che Mauro Sanchini ha realizzato sul palco dell'auditorium Scavolini A nemmeno 24 ore dall'inaugurazione del nuovo impianto polifunzionale della città Una città che cambia come cambiato Bagnaia dal suo arrivo un decennio fa Eh 10 anni e 3 titoli Alla fine sono cresciuto 10 anni in un ragazzino fa tanta differenza E ho avuto la fortuna di avere persone attorno che mi hanno aiutato a crescere nel modo giusto Accompagnato dalla fidanzata Domizia e da tanti amici compreso un altro campione come Marco Bezzecchi Bagnaia ha toccato tanti argomenti compreso l'essere partecipe dell'orgoglio di Pesaro capitale della cultura Bellissimo, sono contento, vorrà dire che quest'estate o comunque quest'anno ci saranno molti turisti in più Ed è ben venga, sono contento Comunque Pesaro si sta da paura quindi è bello Ed ora ci si tuffa in un moto mondiale 2024 con un titolo da difendere Siamo pronti, siamo pronti per cominciare, i test sono andati bene quindi non vedo l'ora Soddisfatto il sindaco Matteo Ricci che propose la cittadinanza onoraria un anno e mezzo orsono Volevamo dare la cittadinanza onoraria ma poi verità è più pesarese di noi ormai Risiede a Pesaro da tanti anni, ha dimostrato anche stasera con l'intervista l'amore Il game che ha con la città, con tanti amici, con la palestra che frequenta, con la VR46 Quindi insomma siamo molto contenti perché è davvero un grande campione Un grande campione in pista e anche una bellissima persona Abbiamo visto un ragazzo davvero in gamba Siamo molto contenti che viva qua, che si sposi qua Quindi come ho detto nel saluto da oggi nuvola rossa sarà un po' nuvola bianco rossa Con i colori della città e quindi rappresenterà non solo l'Italia ma anche la città di Pesaro in tutto il mondo Pesaro in questo scorso weekend ha ospitato anche Patrick Zacchi Bagno di folla Palazzo Ciacchi per ascoltare la storia di rilevanza internazionale Che ha visto il ricercatore universitario recluso a lungo in prigionia in Egitto Una storia che Zacchi ha portato anche fra gli studenti pesaresi Vediamo Si è tenuta a Pesaro presso la sede di Confindustria all'interno del progetto di Pesaro 2024 incontri capitali La presentazione del libro Sogni e illusioni di libertà di Patrick Zacchi Il ricercatore dell'Università di Bologna e attivista per i diritti umani di origine egiziane Che è stato detenuto per 20 mesi nel suo paese d'origine Una sala strapiena che ha visto centinaia di persone che non sono riuscite ad entrare rimanere fuori ad attenderlo anche solo per un saluto Ad anticipare il tutto nella mattinata l'incontro con gli studenti presso il liceo Marconi dove Patrick ha parlato ai giovani di lui del futuro ma anche dell'attualità Si questa mattina sono stato a scuola a Pesaro ed è stato straordinario E uno dei miei primi obiettivi da quando sono stato rilasciato è stato proprio quello di visitare quante più scuole italiane possibili Per condividere con gli studenti le basi dei diritti umani e civili E sono rimasto molto impressionato dal loro livello intellettuale, dalla loro conoscenza in particolare dei diritti umani e anche dalla loro consapevolezza Sono state circa due ore di dialogo molto intenso e fondamentalmente il mio messaggio è stato riguardo a quello che sta succedendo oggigiorno A un certo punto ho dato parola a loro e loro si sono anche espressi con paura rispetto ai fatti recenti italiani delle cariche contro gli studenti Quindi io ho raccomandato a loro di continuare a fare tanto rumore e di non avere paura di esprimere le proprie opinioni Credo che questo messaggio sia arrivato chiaro e forte e ho visto che loro sono stati molto felici di incontrarmi così come io sono stato felice di incontrare loro Un libro che racconterà la sua storia, la sua detenzione, la sua libertà, tra parole di denuncia e di speranza Tra riflessioni su ciò che gli è accaduto e ciò che accade ad altri Il libro di Patrick Zaki è un messaggio per tutti i suoi lettori Il libro fondamentalmente parla, è una mia testimonianza di quello che mi è successo all'interno della prigione E parla proprio delle grandi difficoltà affrontate nelle prigioni egiziane Naturalmente moltissime persone sono state curiose in questo periodo e mi hanno chiesto ma com'è viverlo da dentro Come si passa una giornata, come si fa a non impazzire e anche come si fa a mantenere la speranza E quindi questo è quello che io cerco di raccontare C'è poi anche una parte di attivismo in questo mio libro che è rivolta soprattutto ai miei colleghi che sono ancora dentro e anche ad altri prigionieri Quindi in definitiva si tratta di un libro sia di testimonianza sia di supporto per le persone ancora in prigione Io fondamentalmente passo le mie giornate guardando immagini che vengono dalla Palestina Mi sento molto male, in particolare mi sento malissimo rispetto al silenzio che c'è sull'uccisione di civili palestinesi E sul genocidio che sta avvenendo Sarei molto egoista se dicessi di stare bene Poi è chiaro che sono qui in Italia, sono felice, incontro persone che mi vogliono bene, che mi hanno supportato E apprezzo tutta questa generosità Di tanto in tanto rubo qualche secondo di gioia per me stesso Però in generale sarò felice soltanto nel momento in cui ci saranno cessate il fuoco Ed ora cambiamo ancora argomento perché andiamo a parlare di un importante potenziamento nei servizi sanitari di Pesaro Infatti in questi giorni è stato installato il nuovo mammografo nel distretto sanitario di Via Nanterre Si tratta di uno strumento che Pesaro pensate aspettava da sei anni Dal 12 marzo partiranno finalmente le sedute di screening e le analisi cliniche Con quello che è il primo mammografo di ultima generazione entrato in funzione nelle marche Tra quelli acquistati con i fondi PNRR Per l'azienda sanitaria si tratta di un investimento di 250 mila euro Che punta a ridurre sensibilmente le liste d'attesa Parliamo adesso di politica Andiamo a Fano dove rispetto a Pesaro sei già in piena campagna elettorale Oggi andiamo a conoscere il progetto Noi Civiche Fano Che sosterrà la candidatura dell'assessore uscente Etienne Lucarelli Dieci anni di civismo a sostegno del sindaco Seri Si strutturano nella spinta alla candidatura a sindaco di Etienne Lucarelli Uno dei quattro assessori uscenti profili del centro-sinistra fanese In lizza per le primarie del 7 aprile Propedeutica la chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno Per scegliere il sindaco della terza città delle Marche Al Pino Bar, Lucarelli ha presentato la sua squadra di Noi Civiche Fano Il logo e le linee programmatiche Oggi presentiamo il progetto Civiche della città Che in questi anni hanno dato un supporto al governo Seri Anche con la presenza di due assessorati e di quattro consiglieri Un supporto che ha voluto veramente partire dall'ascolto dei cittadini E fare un'azione pratica verso la città Portare a casa tutte quelle necessità che venivano direttamente dai cittadini Ma anche guardando al futuro Abbiamo costruito una città bella Utilizzando i fondi del PNRR per abbellire la città Ma anche per cercare di progettare tutte quelle attività Che servono per farci crescere Abbiamo progettato una città con una grande identità Quella della sua cultura, la città di Vitruvio La città marinara devono partire nei grandi cantieri che rappresenteranno Ad esempio il Carnevale A tutti questi cantieri bisogna dare continuità E quindi noi siamo qui per dire che le civiche anche oggi vogliono Confermare la loro azione e dare continuità a questi progetti Però abbiamo grandi sfide che ci attendono per il futuro Abbiamo sfide che sono portate dalla crisi economica Dalla crisi sociale, dalla crisi demografica L'allontanarsi delle amministrazioni dalla gente Noi vogliamo colmare tutte queste differenze Guardando allo sviluppo economico Ad una crescita che ad esempio va dietro alla crescita turismo Una serie di progetti che abbiamo attivato verso la città Ma dobbiamo fare anche un master plant importante Per la nostra zona industriale Per farla crescere, per capire quali merceologie possono trainare E quali attività, quali industrie possono trainare il nostro territorio Nella squadra di Lucarelli un altro assessore uscente come Barbara Brunori E poi consiglieri comunali Pietro Valori, Mirko Pagnetti E volti nuovi alla politica, quali Silvia Di Cecco, Carlo Golini, Ilenia Druda e Demma Croce Noi testimoniamo da vicino quello che potrebbe essere sicuramente un percorso Che oggi favorisce l'integrazione di tante persone che ci hanno accompagnato in questi anni Ma che si sono aggiunte proprio perché c'è una voglia di avvicinare la politica al cittadino Proprio con quegli strumenti di ascolto e nello stesso tempo di interpretare quelli che sono dei bisogni Per poi farli, ripeto, è fondamentale in questo momento capire che chi è amministrato Ha la capacità di capire, conoscere e soprattutto avere la visione di tutte le cose Che oggi vanno messe in campo per avere una città sempre migliore La candidatura ha come slogan Fano Fa E' sostenuta da noi civici e da un logo contrassegnato da Frecce Metafore della linea programmatica elettorale Ogni Freccia porterà un tema In questo caso parliamo di quartieri che è un tema per noi importantissimo Perché i quartieri per noi sono l'anima della città Come il centro storico ne è il cuore Ecco, una città deve viaggiare all'unisolo E verrà presentata da una serie di persone Da chi comporrà il gruppo civiche Da nuovi elementi che comporranno anche il gruppo giovani Insomma, da una squadra vera che parte dall'esperienza di governo per guardare verso il futuro E da Fano ritorniamo a Pesaro, esattamente a Borgo Santa Maria Per parlare di un'attività in grande espansione nel nostro territorio Quello della Balzano Consulting Group Che ha ampliato la sua sede e i suoi servizi Nel settore immobiliare e delle ristrutturazioni edili Ne parliamo nel servizio di Nicoletta Tagliabracci E vi ricordiamo anche che lo speciale completo Lo potrete ritrovare mercoledì 6 marzo alle 21.20 Intanto vediamo un'anticipazione Oggi siamo a Borgo Santa Maria E più precisamente in via Casali 54 Cosa c'è in questa via? C'è l'inaugurazione del Balzano Consulting Group In realtà è la nuova sede di una serie di servizi Di uffici che raggruppano tutti i servizi utili all'edilizia E a tutta quella burocrazia che serve per le persone che hanno bisogno di ristrutturare Di rifare casa, non soltanto i privati ma anche le aziende CSI è un centro servizi immobiliari Quindi sostanzialmente non è altro che un raggruppamento di professionisti Tra cui geometri, che lo siamo noi in prima battuta I professionisti che si è messi a noi Poi c'è il commercialista, c'è l'avvocato C'è un agente immobiliare Chi si occupa di sicurezza sul lavoro Diciamo tutta una serie di professionisti Anche altri che adesso non sono qui a delengare Perché l'elenco sarebbe molto lungo Tutte le professionalità che servono per la gestione dei propri immobili Così l'idea è nata perché? Perché così si siede al tavolo tutti assieme Nell'interesse del cliente Con il cliente Si ragiona, ognuno per le sue competenze Dà il proprio parere Poi si esce da questa riunione Dove non c'è dispersione di informazioni Perché tutti hanno partecipato Si velocizza il processo Si ottimizzano i costi E soprattutto si migliora il risultato Nei confronti del cliente Quindi l'idea del CSI che abbiamo sviluppato È nata così Dopo 25 anni che sono a Pesaro Che ne sentivo sempre parlare Siamo riusciti a realizzarlo Speriamo che vada bene Ci metteremo tutto il nostro impegno Come abbiamo sempre fatto in 25 anni di attività fino ad oggi Attualmente siamo 14 dipendenti Siamo 12 interni e 2 esterni che girano per i cantieri Colgo l'occasione anche per ringraziare davvero tutti Perché soprattutto dietro tutto quello che siamo riusciti a creare C'è soprattutto una grande collaborazione Quindi dobbiamo ringraziare davvero tutti i collaboratori Per lo spirito con cui affrontano il lavoro E come dicevi tu sì Soprattutto le idee anche che loro apportano Perché sono idee giovani, fresche E soprattutto C'è una grande percentuale di donne E le donne ragazzi mi dispiace Ma ad oggi sono un passo avanti Quindi diciamo che loro ci aiutano davvero tanto E quindi li voglio ringraziare Il nostro servizio è interessato sia ai privati E alle imprese che devono praticamente gestire il loro patrimonio immobiliare Quindi nel caso di ristrutturazioni Come nel caso di costruzioni Ma anche la gestione del patrimonio Perché noi non ci occupiamo solo diciamo di interventi edilizi Ma tutta quella che è la burocrazia Faccio un esempio Seguiamo il catastro Seguiamo le successioni Seguiamo le volture Seguiamo la sicurezza all'interno delle aziende Quindi abbiamo diversi All'interno delle aziende Ma anche nei cantieri edili Quindi abbiamo diverse professionalità Che si dedicano sia al privato Ma anche all'azienda Perché in questo mondo di regole che cambiano di continuo Di leggi Di stricarsi non è semplice E noi cerchiamo con la nostra professionalità E con il nostro studio Di dare una mano ai committenti Che ripeto Sono sia imprese E sia privati Quindi chiunque deve fare O gestire il proprio immobile O costruire o ristrutturare Può rivolgersi a noi Come hanno sempre fatto i clienti E speriamo sempre di dargli un ottimo servizio Come ci dicono le recensioni Che facciamo La settimana di Fano Capitale della Cultura Nel progetto 50x50 Capitali al Quadrato È stata aperta ieri mattina Dall'inaugurazione Della Sala della Cultura In via Arco d'Augusto 81 Un nuovo spazio Che ospiterà attività e iniziative Delle associazioni culturali della città Sala che è stata inaugurata ieri Con l'intervista evento Al regista Leandro Castellani Domani invece Fano Alzerà il sipario Sull'anteprima di Circonomia Il festival dell'economia circolare E della transizione ecologica Previsto un ricchio calendario Di appuntamenti Dal 7 al 10 marzo Che sarà anticipato domani sera Al Teatro della Fortuna Alle ore 21 Con lo spettacolo di Fabio Cappa Dal titolo Non c'è più tempo Anche l'orchestra sinfonica Rossini Partecipa alle settimane rossiniane Con il programma L'iricon sinfonico Rossini Compleanno tra amici In programma al Teatro Rossini di Pesaro Domani Martedì 5 marzo Alle 21 La performance Metterà in scena Una suggestiva Unione Tra le sonorità rossiniane E quelle di Beethoven A dirigere il concerto Sarà il maestro Daniele Agiman Ad esibirsi Cantanti solisti Maria Sardarian E Paolo Ingrasciotta E come sempre Come tutti i lunedì Uno spazio dedicato Allo sport Non possiamo non parlare Della grande vittoria Della Carpegna Prosciutto Pesaro Appunto Proprio ieri Alla Vitrifrigo Arena Dopo otto sconfitte consecutive La VL risorge in maniera prepotente Prendendosi lo scalpo eccellente Della capolista Germani Brescia Alla Vitrifrigo Arena Prima gioia per Sacchetti Prima vittoria del 2024 Alla prima presenza di Justin Wright Foreman Che si rivela arma decisiva Per una vittoria netta E ottenuta con merito Alla sirena Il punteggio sentenzia 93 a 83 Al termine di una partita approcciata In maniera arrembante Fin dai primi possessi Wright Foreman crea il solco da subito Con le sue bombe Per un 4 su 5 dalla distanza E un totale di 25 punti A corredo di una prestazione da MVP Fin dai primi scatti Sul parquet della Vitrifrigo Arena Accanto all'ultimo arrivato Gira bene tutta la squadra Che imbastisce una performance collettiva Capace di onorare al meglio La domenica dell'intitolazione della curva Alla memoria di Marco Piccoli Nella serie B di basket Grande prestazione dell'Ital Service Loreto Nella prima partita della fase play-in gold I peseresi vincono 75-61 In casa della quotata Virtus Roma E guardano con fiducia Alla prossima gara interna con Fiumicino Nella pallavolo La megavox Vallefoglia Trova i tre punti che cercava Ai danni del fanalino di coda Itas Trentino Che come previsto Ha dato grande filo da torcere Alle tigri Per due terzi di partita Prima di crollare di schianto Nel terzo parziale Un 3-0 Contrassegnato dai parziali 25-21 25-23 25-15 Nel rugby si ferma La striscia positiva Della Fiorini-Pesaro Che sul campo del Val Sugana Non riesce a bissare Il successo dell'andata I veneti Hanno la meglio Per 35-17 Lasciando i kiwi A mani vuote Nel calcio Invece preoccupante Seconda sconfitta Consecutiva Per la vis-pesaro Che come Recanati Perde 1-0 Anche nel sabato Del Benelli Col Ponte d'Era La sconfitta Arriva solo al 93-esimo Quando Especie Corregge in rete Un'azione Nata sugli sviluppi Di calcio di punizione Regalando il blitz Ai toscani E punendo Una vis mai brillante E non aiutata Dall'espulsione Di Obi Che prende due gialli In 16 minuti Dal suo debutto Al Benelli La vis rimane fuori Dai play-out Ma con un vantaggio Che in due partite Si è sottigliato Da 4 a 2 punti E domani Si torna in campo Nell'infrasettimanale Di Pineto Alle 18.30 Beffa nel finale Anche nel calcio 5 Con l'Ital Service Pesero Che venerdì sera Ha perso 4 a 2 La sfida Di Sala Consilina Pesero è stato avanti Con merito Per tre quarti di gara Ma sull'1 a 2 Costruito sulle reti Di Murillo e Caruso Ha sprecato troppe chance Per scappare via E alla fine È stata affreddata Dal portiere Di movimento avversario Eccoci pronti Per vedere Quella che sarà La programmazione Su Rossini TV Innanzitutto Vi dico subito Che continua Il nostro appuntamento Che ci accompagnerà Per tutto l'anno Con tutte le notizie Di Pesero Capitale Della Cultura Nella rubrica La natura della cultura Che trovate lunedì Mercoledì e venerdì Subito dopo il telegiornale Subito dopo l'edizione Del telegiornale delle 13 E quella appunto Subito dopo La rassegna stampa Del mattino Quindi vi aspettiamo Tra pochissimo Con alcune informazioni Per Pesero Capitale 2024 E poi come sempre Però il lunedì È giornata E serata Su Rossini TV Dedicata alla medicina In collaborazione Con Fisioradi Medical Center C'è capo Obiettivo Salute Questa sera Le 21.20 Parliamo della chirurgia Mini-invasiva Del racchi Dell'Ombare E lo facciamo Con il dottor Ignazio Borghesi Subito dopo Andiamo a vedere Quello che è stato L'inaugurazione Dell'anno accademico 2023-2024 Dell'Università degli Studi Di Urbino Domani invece vi aspetto Con la nostra rassegna stampa In diretta Alle 7.20 E poi domani sera Una nuova puntata Di Amministrando Come abbiamo già anticipato Nel nostro telegiornale Di questa sera A Fano È già partita La campagna elettorale Pesaro Ancora non si hanno Notizie dettagliate Quindi continuiamo A parlare di Fano E allora domani sera Vedrete alle 21.20 Renato Claudio Minardi Che è segretario Del Partito Democratico Di Fano Con Alessandro Brandoni Che è invece Il segretario della Lega Sempre della città Della fortuna E adesso vediamo Come sarà il meteo In questi giorni Un meteo un po' avverso Piogge un po' In tutto il territorio Nazionale Io invece Vi aspetto domani mattina Alle 7.20 Con la nostra rassegna stampa